e abbiamo trovato se ci saranno a parte 2 scusate ragazzi abbiamo trovato dacol no raga c'è una bustina col prezzo che figa no cosa voglio aprire per ultimo c'è una bustina col prezzo ragazzi troviamo kidfury fermiamo il video ragazzi vado veloce mi dispiace però io sto andando sto prendendo minuti di video metto il panino trattando sovrappioni cristo ma se mi devi far trovare un don don dorato fammi trovare quello che mi manca no lui no lui c'è la viola e si chiama shaky e poi questo che ho trovato una caffettiera se si può dire e si chiama bowling head testa che sta bollendo di nuovo baggiammi we wish you non trovar niente we wish you non trovar niente we wish you non trovar niente and the happy new year good times we bring to you and your care good times for christmas un altro questo è così scusate ragazzi sto esplodendo penuti a bustina l'ho dato questo è l'ultima spero che sia l'ultima anzi no non lo spero, non lo spero, vabbè, ancora col pezzo, no, l'ho dato lui di altro colore, ragazzi, purtroppo non ho dato chi si vuole, però vabbè, sono comunque felice di dare il bottino che abbiamo trovato, spero che vi vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like e noi ci vediamo al prossimo video, cioè ragazzi, siamo sempre con voi, cioè ragazzi.